L'età serve per l'anagrafe, ma non per me. Il mio spirito è giovane. La bellezza conta quella dell'animo. Io voglio che tutte le persone, aiutare tutte le persone anziane in modo che possano vivere una vita felice e poi anche un po' cambiare un po' la società che ancora ha troppi pregiudizi e non è una cosa giusta. Se è qualche negativo sulla mia persona, li ringrazio per la loro sincerità. Avrei tanto bisogno di incontrarli e prendere un caffè. Grazie. 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 Grazie.